I carabini del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia d'Alessandria hanno arrestato in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria un soggetto proveniente dal napoletano ritenuto responsabile di una rapina effettuata qui appunto nell'aprile ai danni di un distributore sul lungo Tanaro. Insieme a lui il complice è stato sottoposto a una misura dell'obbligo di dimora nel comune di Napoli. Le indagini durate diversi mesi hanno consentito di identificare i suoi due soggetti che avevano simulato essere dei corrieri e poi aver perpetrato una rapina ai danni di un distributore qui nell'Alessandrino. E come si è trattato di una vera caccia all'uomo perché vi siete spostati? La difficoltà nell'indagine è stata quella appunto di trovare i due soggetti perché si muovevano continuamente sul territorio nazionale e quindi non sono stati rintracciati nel napoletano dove risiedevano ma le catture e quindi le indagini per riuscire a fermarli sono durate diversi mesi.